Antivigilia dell'esordio di Cosmi sulla panchina bianco-azzurra al partegno di Avellino con fischio d'inizio all'ore 18 la posta in palio è alta, lupi col dente avvelenato per il pareggio con proteste di Varese e sconfitti nell'ultimo confronto casalingo da Lanciano che puntano al ritorno al successo per centrare la nona affermazione stagionale davanti al proprio pubblico. L'Avellino infatti in casa è stato sconfitto sinora solo dalla capolista Palermo e dai rossoneri di Baroni. I bianco-azzurri invece proveranno di inaugurare al meglio la gestione di Cerse Cosmi per arrestare la serie preoccupante di sconfitte consecutive, ben sei costata la panchina al tecnico marino. Peccato per le assenze di rilievo, sicuri assenti, difensori Capuano, Zauri, Balzano, l'attaccante Samassà, in forte dubbio anche il centrocampista Rizzo, Cosmi ha però dato subito l'impressione di avere le idee chiare con un atteggiamento tattico che dovrebbe vedere la difesa a tre con l'aggiunta di due esterni, probabilmente Ragusa e Salviato, pronti a ripiegare in copertura, dunque spazio al 3-4-2-1 con Sforzini unica punta. Ciò che più conterà però sarà l'atteggiamento mentale di una squadra che dovrà assolutamente risollevarsi. Il direttore di gara sarà Ciampi di Benevento.